Stasera festa grande, c'è l'inaugurazione della mia nuova zappetta di lavoro, io faccio il bracciante agricolo. Vedi, domani con questo inizio il nuovo lavoro al mio orto, vedi, con queste zappette io ho fatto una vita da bracciante agricolo, ho guadagnato il pane per sostenere la famiglia, per mantenere la mia famiglia. Un lavoro umile, una vita da bracciante agricolo. Vediamo un po' l'anatomia di questa zappetta agricola, quest'ultimo modello. Vediamo la parte, vedi, di lato. Vediamo quest'altro profilo, così. Poi lo vediamo così, vedi. Guardiamola dall'alto. Adesso la posso anche girare così, vedi. Anche di lato, vedi. Un saluto dall'archipiano del Fucino, dal mio orto. Oggi una splendida e magnifica giornata. Guarda qua, sentiamo anche il canto. C'è di sentire? Che piacere, che oasi di pace. Ci troviamo nell'archipiano del Fucino. Le nocchie, guarda che belle nocchie. Queste sono le nocchie. Le trovo sempre nel mio orto. A proposito, mi trovo adiacente in prossimità e in vicinanza. Certamente comincia a maturare anche la marena. Ho anche altri alberi di amarena. Ecco l'altra amarena. Vabbè, gli alberi di amarena ne ho più di uno. Vediamo un po' da vicino. Ecco, vedi come sono belle e prospose queste amarene. E qui ai miei piedi, come se vedi, ho trapiantato un pavoloro. Vabbè, buon pomeriggio, addirittura di giornata. Io qua sono felice e contento. Guardate che panorama, che splendido panorama. Il tipiano del Fucino. Il più il Fucino da lavoro con l'intera mazzina e il pane a tutti gli italiani. Che abbondanza di nocciole.